Musica Cari telespettatori bentornati a Primo Cittadino, oggi è tornato a trovarci il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petruccia a cui do subito il benvenuto. Bentornato sindaco. Grazie dottoressa Zonghetti, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Vi ricordo che potete intervenire come sempre in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un breve messaggio di testo su WhatsApp al 338 49 68 250. Vi anticipo anche che nel corso di questa puntata il sindaco omaggerà, darà un riconoscimento a due giovani neomaggiorenni che hanno già raggiunto i nostri studi, ma sindaco partiamo dalla sanità. Il primo argomento in scaletta partirei dalle dichiarazioni recenti di Biancani sulla riduzione dei posti letto. Sulla vicenda si è creata un po' di confusione. Vogliamo fare chiarezza? Sì, grazie dottoressa per la domanda perché ci tengo a fare chiarezza in particolar modo ai miei concittadini che in questi giorni mi hanno telefonato e scritto tantissimo per avere chiarimenti nel merito. È chiaro che credo che ci sia stato un grosso fraintendimento da parte del vicepresidente del Consiglio regionale perché dal comunicato che ho potuto leggere ha indicato che i 40 posti di letto di RSA attualmente vigenti dentro l'RSA Bricciotti sarebbero diventati 15 all'interno dell'ospedale di comunità. È chiaro che sono due percorsi totalmente distinti e che in questo momento l'RSA Bricciotti non è in discussione anche a fronte dell'incontro che ho avuto con Salta Martini e con la Storti, ma anche a fronte di quelli che sono gli accreditamenti all'interno di quella struttura. È chiaro che è una struttura che ha bisogno di essere riqualificata e che ha bisogno di interventi. Vero è che non sicuramente sono sostenibili con gli interventi da PNRR per molteplici motivi. Intanto perché i fondi da PNRR che sono destinati tramite il Ministero, tramite Agenas e PNRR vanno e sono dedicati a strutture dedicate, cioè efficientamento totale, con dei carismi particolari e che vanno nell'ottica di quelli che sono gli ospedali di comunità. Strutture che poi mi sono portato dietro il piano di resilienza, il piano nazionale di ripresa e resilienza che magari leggeremo anche insieme. Strutture dedicate a quello che è una cuzie piuttosto che altre situazioni ma di gestione infermieristica. Dedicati a quello che debba essere una riduzione dei flussi sia al pronto soccorso sia al post degenza. Quindi particolarmente dedicati a quelli che potrebbero essere anche la riduzione, speriamo, di quelle liste d'attesa che purtroppo negli anni si sono allungate. Vedo nella foto la neossessora Franca Rossi, ex direttrice amministrativa del Selesi di Ancona che mi sta dando una grossissima mano, nominata qualche mese fa come figura tecnica anche nell'ottica della riqualificazione dei Bricciotti a fronte delle proposte che questa amministrazione da anni sta avanzando alla regione per ripalificare una struttura a noi molto cara. Chiaro è che l'RSA Bricciotti ha un percorso totalmente dissociato e distaccato da quello che è l'ospedale di comunità. Oggi purtroppo ci sono solo 10-12 ospiti all'interno di quella struttura per gravi difficoltà statiche e sismiche. Però sono due strutture che non vanno confuse, che vanno mantenute distinte. Mi domando il perché si vogliono destinare alcune risorse sul Bricciotti in questo modo capendo che non sono né sufficienti né propedeutiche allo sviluppo di quella struttura. Ci vogliono interventi mirati ma soprattutto ci vogliono progetti sul Bricciotti che vadano all'ottica di riqualificarlo. Come? Noi ne abbiamo avanzate diverse. Abbiamo portato in Consiglio Comunale il 31 maggio del 2021 una proposta concordata con l'ambito territoriale e sociale, con l'IRCA, con l'Università di Urbino, con l'Azienda Sanitaria Territoriale, oggi Astuno, allora era l'Azur, laddove si riqualificava questa struttura nell'ottica del recupero delle demenze. Una lista d'attesa imponente in questa provincia per quella che è la problematica legata alle demenze e che abbiamo avanzato alla regione. L'abbiamo portato in Consiglio Comunale, all'unanimità l'abbiamo votata, anche la minoranza era concorda in quel libro. Abbiamo poi avanzato un anno e mezzo dopo tante altre possibilità, oggi parliamo anche di autismo, parliamo di dopo di noi, parliamo di tutte strutture necessitanti del territorio che vadano anche a riqualificare quella struttura che per noi è preziosa a Monbaroccio, ma che, ripeto, ha un percorso a sé stante da quello dell'ospedale di comunità. Quindi ci tengo a precisare questo perché è nell'ottica non solo di Monbaroccio, perché sono strutture a Monbaroccio, continuo a ripetere, come l'ospedale è a Pesero, come l'ospedale è a Fano, ma sono strutture del territorio che servono i monbaroccesi, che servono i nostri concittadini della provincia di Pesero-Rubino e non solo. Quindi c'è stato un fraintendimento? Secondo me, purtroppo sì, e questo mi dispiace perché quando si parla di sanità sono cose estremamente delicate e se vogliamo mettere al centro il cittadino, l'utente, o in questo caso il paziente, nonché chi lavora all'interno di quelle strutture, non accetto certi fraintendimenti. Questo mi dispiace rimarcarlo, però sono questioni sensibili su cui noi sindaci abbiamo delle responsabilità enormi e sulle quali dobbiamo farci sentire specie in questi casi. Mi domando però del perché oggi si parli di investire nei briciotti, e questo sicuramente avrà una sponda da parte mia nel momento in cui ci saranno dei progetti, quando in 40 anni, dal 1980, con la legge Basaglia, quella struttura è stata affidata alla Regione, e in 40 anni, fino al 2020, non è stato stanziato nemmeno un euro per riqualificarla. Ad oggi per riqualificarla, parlando con l'azienda sanitaria, non sono sufficienti i fondi PNRR, che sono 3 milioni e 6 più un altro milione messo dalla Regione per arrivare a circa 4 milioni e 8 più il progetto è altro. Ce ne vogliono almeno il doppio, soldi che non ci sono per riqualificare quella struttura con quei carismi che sono previsti da PNRR. Pertanto, citerei io che i miei cittadini sono disponibili a un confronto nel momento in cui avrò il progetto nelle mani, Saltamartini la settimana scorsa, insieme alla dottoressa Storti, l'assessore Saltamartini, vicepresidente della Regione Marche, e la dottoressa Storti mi hanno presentato il progetto, l'abbiamo visto insieme, e siamo disponibili a presentarlo in assemblea pubblica a tutti i cittadini, programmando quello che è l'intervento dell'ospedale di comunità, i cui lavori dovrebbero essere pronti per partire già ad aprile, ma sicuramente non ci fermeremo, non demorderemo su quella che è la riqualificazione di una struttura così importante come i bricciotti. Chiaro è che bisogna fare i passi secondo la gamba, in questa fase le risorse sono da PNRR e sono dedicate agli ospedali di comunità, poi entreremo nel merito anche di quella che è la struttura residenziale, assistenziale, bricciotti. Le leggo un messaggio, buonasera signor Sindaco, volevo chiederle se ci sono possibilità che venga bonificata e resa di nuovo fruibile la zona confinante con l'area attrezzata adiacente alla chiesa di Villa Grande e spiega quella dove c'era il campo di bocce per intenderci, e cosa mi sa dire in merito al recupero della chiesa di San Marco a Monbaroccio? Benissimo, sì, allora sulla chiesa di Villa Grande, la parrocchia dove sono cresciuto, e che conosco benissimo, abbiamo uno stanziamento di 70 mila euro con fondi regionali che vanno nell'ottica di riqualificare sia per le disabilità, nell'ottica anche di riqualificare i giardini e i giochi fruibili ai ragazzi, nonché, come dicevamo prima, guardo qualche amico che qui vicino che poi avrete modo di conoscere, le porte da calcetto piuttosto che altro, quindi saranno destinati 70 mila euro nell'ottica della riqualificazione, sono stati già affidati i lavori, per la chiesa di San Marco sì, abbiamo 80 mila euro per la riqualificazione delle facciate, ci saranno interventi e ci sono stati già interventi il 7 di marzo, se tutto viene per il compleanno di Ciro Pavisa, riapriremo la chiesa come mostra permanente di quelle che sono le opere del nostro artista Ciro Pavisa, e quindi anche su San Marco avremo una bella riqualificazione sia della facciata ma anche degli interni. Farei un saltino perché vorrei parlare, visto che ci siamo, anche del Beato Sante, e lo stesso ci sono interventi importanti. Assolutamente, mi permetto di ringraziare nell'opera sinergica di questo percorso che ha collaborato, quindi l'associazione che è nata per l'ottocentesimo, gli assessori Aguzzi e Baldelli per la grande collaborazione, nonché il presidente Acquaroli, perché hanno stanziato per il Beato Sante 150 mila più 50 mila, in due tranche questi sono i primi 160 mila, più a questi se ne sono aggiunti altri 50 mila, destinati sia alla riqualificazione degli altari ligni, sia, come vedete adesso in questa foto, del refertorio, un refertorio ligno che andrà recuperato in un'ottica di bonifica, perché comunque ha delle criticità legate poi alla vetustà del legno, e poi il campanile che avrà bisogno di riqualificazione, quindi 150 mila da subito per il refertorio e gli altari ligni, nonché il chiostro per quello che potrà avanzare, più 50 mila che stiamo affidando per la riqualificazione anche del campanile. Già cantierati gli interventi? Assolutamente sì, è stato incaricato il dottor Papi per quanto riguarda i lavori, abbiamo avuto già il parere della sovrintendenza che ha richiesto un po' di tempistiche, nonché purtroppo una lungaggine della burocrazia a fronte di un cambiamento di procedura che all'inizio anno ci ha inficiato sulle assegnazioni dei lavori, ma che comunque abbiamo risolto e quindi questa mattina ho sentito il tecnico per posto per il recupero e quindi i lavori sono, tra virgolette, partiti già da oggi, ma comunque vedremo il cantiere in settimana. Parlando di storicità, è iniziato anche l'intervento sulle mura storiche del borgo. Anche qui un grossissimo ringraziamento alla Regione Marche, nella figura della Sessore Baldelli, perché queste mura che vedete in visione sono il secondo stralcio, un primo stralcio è stato fatto sullo Sferisterio per 220 mila, queste insieme a un terzo stralcio sono nell'ottica dei 380 mila euro che sono stati finanziati, 80% da parte della Regione, 20% con risorse comunali per un totale di 380 mila euro appunto e che permetteranno di vedere Monbaroccio nella sua ancora più bellezza, perché comunque sono quelle che si affacciano sulla strada provinciale prima di arrivare a Porta Maggiore, antistanti poi al nostro briciotti naturalmente. E c'è stato un percorso fondamentale, storico e culturale pure per Palazzo del Monte, che finalmente è stato riaperto. Abbiamo fatto un bellissimo intervento, sono stracontento di quest'opera, perché è la prima che abbiamo cercato di ripristinare a fronte di quella che era una, diciamo così, una troppo veloce chiusura a fronte di alcuni interventi che potevano essere fatti, ma che non sono stati fatti, che hanno condizionato la precedente amministrazione con una scelta che un pochettino è stata una ferita aperta per tutta la comunità e che grazie a un bando di 200 mila euro da Regione Marche, più un grosso impegno da parte del Comune di oltre 450 mila euro, siamo riusciti a intervenire per un totale sì di 650 mila euro, ma con un ribasso d'asta di circa un 30%, quindi sono stati lavori per circa 800 mila euro, a cui si aggiungono due progetti, quello preliminare, definitivo e esecutivo, per altri 200 mila euro complessivi. Quindi siamo andati a Palazzo del Monte ad aprire le porte per quasi un milione di euro tra progetti e interventi. Ne parleremo poi anche per Pesaro 2024, ma ci vuole anticipare se verrà logicamente coinvolto questo palazzo storico? Sarà insieme al Beato Sante il punto nevralgico per quello che è il prospetto culturale che pondereremo sulla settimana del 15-21 luglio, laddove si confronteranno le stelle, perché Guido Baldo ci permetterà di guardare con le stelle in quelle serate incantate di luglio, ma che dalla parte della scienza del palazzo si rivolgeranno nella bellezza del santuario del Beato Sante, contrapponendo la fede e la scienza, cosa che nella storia sono stati due poli molto lontani che a Monbaroccio si avvicinano grazie alla natura del bosco e della natura che li avvicina. Ci spostiamo in via Zandonai, perché l'ultima volta in cui è stato qua da noi, il 13 di novembre, ha parlato di interventi sulle scuole, ma ci sono anche quelli che riguardano la palestra. Assolutamente sì, abbiamo terminato, eccola qua, la palestra partirà, sono già stati affidati i lavori, il cantiere abbiamo tentato di prolungarlo il prima possibile per permettere ai ragazzi, almeno nella fase invernale, di utilizzare questi spazi, in modo tale che anche in primavera possano utilizzare spazi all'aperto a fronte dell'attività di cantiere che partirà già da marzo, e quindi 1.200.000 euro di interventi che vanno nell'ottica dell'efficientamento energetico, della riqualificazione sismica, ed è una struttura che non vedrà cambiate le sue volumetrie, perché abbiamo una palestra bellissima nei suoi spazi, ma che è molto fragile e non è per nulla efficiente a livello energetico. Questo progetto, questo cantiere, si integra a quello terminato della scuola in via Zandonai, che è accanto alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, e che va a integrare l'altro 1.800.000 stanziato, quindi 1.200.000 più 1.800.000 diventano 3 milioni di euro per scuola primaria e scuola secondaria, che si integrano a quella che è la foto che vedo adesso, al polo d'infanzia, se non sbaglio dottoressa Zonghetti, esatto, eccola qua, che i cui lavori partiranno, adesso qualche mamma chiamerà, può darsi o mi sgriderà al telefono, non partiranno il 4 di marzo. Abbiamo avuto più o meno il nulla osta oggi, perché stavamo terminando dei lavori presso gli uffici comunali, dove trasferiremo i bambini della scuola di infanzia, le bambine della scuola di infanzia, nonché gli insegnanti e le insegnanti, in questo caso che ringrazio per la grande disponibilità e vicinanza, e che mi permetteranno di avere i ragazzi vicini, proprio vicini anche fisicamente, all'interno degli spazi comunali che abbiamo messo a disposizione per poterli accogliere. Nei 18 mesi, probabilmente, sarà questa la tempistica per la realizzazione del nuovo polo d'infanzia, che permetterà di avere una scuola totalmente efficiente a livello energetico, nonché totalmente sicura a livello sismico. E ci raccontava che il tetto poi diventerà una piazza? Assolutamente. È stato un progetto che ha finanziato la Regione Marche tramite fondi PNRR, che ci ha visto arrivare i primi in graduatoria sulla progettazione di queste scuole, di questi poli, e che ci permette non solo di creare una scuola innovativa, importante, sotto tutti i punti di vista, ma che ci permette di creare uno spazio sociale sopra la scuola, quindi vede nei pilastri della scuola non solo la cultura, ma anche la socialità di un territorio, con questa piazza che permette a Villa Grande, finalmente, di avere uno spazio dove incontrarsi e vivere. Tra poco vado avanti con i messaggi, ma mi dicono dalla regia che c'è una telefonata per lei. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buongiorno, buonasera. Volevo ringraziare il sindaco che sta parlando in questo momento, il sindaco di Monbaroccio, Lele, per noi. Io sono l'infermiera del Bricciotti, sono la Rosi Buccarossa, e volevo ringraziarlo per il suo interesse verso il nostro ospedale Bricciotti e per la sua forte simpatia e collaborazione verso di noi. Grazie mille e buona serata e buon lavoro a tutti. Grazie a lei per questo intervento, è un bel riconoscimento anche per il lavoro e le battaglie che lei ha portato avanti in questi anni. Mi chiede la dottoressa che quando arriva da una persona che lavora nell'ambito socio-sanitario dà una soddisfazione molto particolare. È doppia, perché poi loro hanno a che fare quotidianamente con le varie problematiche. Assolutamente, sono un gruppo, una squadra coesa, forte, con cui mi sono sempre rapportato e le ringrazio in questo caso perché sono tante ragazze a lavorare all'interno di quella struttura. Le ringrazio per la vicinanza, per i consigli e per il confronto che c'è sempre stato. Messaggio per lei. Grazie sindaco per tutto ciò che ha fatto, ora manca una bella sistemata alle strade. Che ne dice sindaco? Io sono d'accordissimo perché le strade sono la prima cosa che un cittadino rileva. Non voglio piangere, non voglio nascondermi dietro un dito, ma credetemi la difficoltà legata a quelli che sono stati il settembre 2022 e il maggio 2023 sulle problematiche di discesso idrogeologico legate a quelle criticità delle piogge, delle inondazioni che abbiamo avuto ci hanno dissanguato, scusate il termine se è un po' così alla buona, ma ci hanno dissanguato in termini di bilancio. Quelle risorse che avevano destinato sull'ordinario per la gestione della viabilità e delle strade le abbiamo dovute dedicare tutti al ripristino di 10 strade di cui 8 di carattere comunale. E ricordo anche le foto, insomma, erano delle situazioni pericolose e disastrose. E quindi stiamo cercando in tutti i modi di trovare risorse per la viabilità, in particolare strada panoramica, via Mondrigo, tante altre, però quella che era una programmazione purtroppo c'è saltata e che naturalmente mi auguro che con le prossime amministrazioni, chi verrà da giugno in poi, possa dedicare la massima attenzione anche nel merito. Parleremo anche di elezioni. Prima di andare in pubblicità le chiedono forse non era opportuno non demolire la vecchia scuola e costruire una nuova struttura? Costruiremo una nuova struttura, costruiremo una nuova struttura sempre in ottica di quella che è la finalità del PNRR. Il massimo efficientamento energetico ce l'abbiamo e lo otteniamo con la massima stabilità sismica, la otteniamo nel momento in cui creiamo una struttura da nuovo. Abbiamo cantierato una scuola accanto, un polo di infanzia accanto a quella esistente, ma pensando che quella esistente nasce con un pilastro degli anni 50 come costruivano allora e l'incamiciamento della struttura tutta nel contorno vorrebbe dire continuare a perseguire in un errore che non ci possiamo permettere nei confronti delle scuole, nei confronti dei ragazzi, nei confronti degli insegnanti, nei confronti delle famiglie. Quindi se un poco devi soffrire, se un bello vuoi apparire, qualcuno dice. Quindi è vero, li portiamo nel borgo, sarà un borgo accogliente, sarà un borgo a misura di bambino, però per fare questo abbiamo bisogno di 18 mesi di lavori intensi. Ci fermiamo per qualche istante e poi quando torneremo qui in studio e in diretta conosceremo il sindaco e i suoi due concittadini. A tra poco. E siamo di nuovo in diretta negli studi di Fano TV. I mombaroccesi già lo sapranno, ma per tutti gli altri nostri telespettatori dovete sapere che il sindaco di Mombaroccio, Emanuele Petrucci, è solito a incontrare i neomaggiorenni per consegnare loro un piccolo riconoscimento e pubblica pure le foto sui social. Sindaco, oggi abbiamo due giovanissimi. Vi ricordo che l'ultima in ordine di tempo è stata l'onora, la prima mombaroccese 18enne del 2024. Oggi chi ha vicino a lei? Oggi abbiamo Giada e Emanuele Petrucci, tra l'altro festeggi oggi, cade proprio oggi il giorno del tuo compleanno e il tuo Giada? Io domani. Come mai sindaco questa cosa che vuole fare? È nato tutto quando tanti anni fa mi chiesero una prima candidatura a Mombaroccio come consiglier, ero appena 18enne e quindi da quell'incontro che ebbe in quel bar a fronte di guarda ci dai una mano, facciamo o non facciamo, non ne ebbe seguito. Morì lì, quindi nessuno mi ricontattò. Io ancora me lo ricordo, quindi mi è rimasta quella cosa, specie quando ho una passione di condividere il proprio territorio o fare qualcosa per il proprio territorio. Allora mi sono detto da quando è iniziato il mio mandato, quindi dall'inizio, è partito questo percorso, i ragazzi vanno coinvolti, specialmente adesso che hanno delle idee molto più innovative rispetto a noi, che hanno un modo di comunicare anche diverso rispetto a noi, una certa facilità di comunicazione ma anche un certo dinamismo, diverso dal nostro. Io mi sono sempre detto che ogni tempo ha le sue idee, specialmente di quelle dei ragazzi che noi non possiamo condividere se non c'è un confronto con loro. chiaro è che quando ci si confronta con loro vengono fuori delle iniziative, delle idee o delle istanze che un'amministrazione come la mia ha fatto proprie e che in parte cerca di, laddove può, portare a termine, portare avanti, riuscire a risolvere. E pertanto mi sono sentito di coinvolgerli con dei piccoli pensieri che adesso gli darò e che li vedono sia, li vorrei rendere sia partecipi dell'attività amministrativa, laddove il mondo li porterà, dove gli studi li porteranno, quindi ho detto a tutti, più o meno già ad Evan la stessa cosa, nel senso che nel momento in cui un domani andrete con gli studi o con il lavoro dall'altra parte del mondo non abbiate problemi a scrivere a un'amministratura locale una mail piuttosto che a mandargli un messaggio, piuttosto che laddove un'iniziativa vista allora o studiata in quel momento possa essere un progetto anche da sposare nella nostra comunità piccola ma importante come quella di Monbaroccio. Quindi cerco di coinvolgerli in tutti i modi, di farli partecipi, di renderli anche responsabili nel momento in cui poi l'anno in cui saranno dedicati al voto perché a 18 anni si comincerà a votare e quindi ci sarà un piccolo pensiero legato anche a quello che è il percorso costituzionale. Una piccola lettera e naturalmente sposando l'iniziativa della nuova Presidente dell'Avis, Paola Grigioni, che saluto così come tutto lo staff dell'Avis di Monbaroccio, nonché l'Avis provinciale, mi dice sempre, digli a quei ragazzi che se vogliono venire nell'Avis sono pronti anche per donare e donare diventa un percorso estremamente importante per la vostra salute e per quella degli altri che aspettano il vostro sangue e il vostro plasma. Quindi in tutto questo, ecco come li coinvolgo con queste poche parole che ho detto. Messaggi fondamentali però per i giovani, perché no, poi magari anche loro possono parlarne con gli amici, con le proprie famiglie e coinvolgere anche gli altri appunto in queste iniziative. E far presente loro che sono parte integrante della comunità e da loro possono venire fuori delle iniziative e delle idee che possono fare la differenza, questo sì. Allora, passaggio ufficiale, la consegna di questi riconoscimenti. Allora, prima a Giada e ti lasciamo anche la collanina della protezione dell'Avis, chiedo scusa, così come a Evan. Piccolo pensiero Evan. Grazie. E non ha dato paura anche di chiedere soltanto informazioni all'Avis perché è un gesto bellissimo per voi e per gli altri. Esatto. Quindi grazie a Dottoressa Zunghetti. Ve lo dico da donatrice. Ringrazio a lei, Dottoressa Zunghetti e Fanno TV per la disponibilità che hanno dato, anche perché mi sentivo di rendere più ampio possibile questo percorso con i giovani che ho premiato nel piccolo fino ad oggi e che fino a giugno naturalmente continuerà a fare. Che scuole frequentate? Io frequento Agrario Tecnico al Cecchi, nel quarto anno. Giada? Io liceo linguistico, anche io quarto anno. Avete già pensato per il vostro futuro? Cosa farete? Proseguirete negli studi? Sì, io vorrei fare il biologo marino. Però impegnativo, ma bello, interessante, anche affascinante. Sì, molto. Tu Giada? Io vorrei fare l'università, però ancora sto pensando a quale facoltà. Quindi ancora devi pensare anche alla professione poi di un domani. Avete qualche passione in particolare? Magari anche la politica? Lo sappiamo. Io soprattutto suono e vado a pesca. Ah, bello. Bello insolito. Io sarei orientata, sì, o su scienze politiche, mi piacerebbe, oppure lettere. Impegnativi? Impegnativi, però in bocca al lupo per tutto. E come si vive a Monbaroccio? Si sta bene? Sì, sì, si sta benissimo. Riuscite a godere anche degli spazi che ci sono? Sì. Rapporto anche con l'amministrazione comunale, insomma, anche quello importante, come diceva il sindaco. Magari non ci passo così tanto tempo perché magari esco più in città, però comunque come paese, devo dire che è un bel paese e si vive bene. Bene, grazie mille per aver deciso di trascorrere con noi questa giornata importante, soprattutto per te, Evan. Quindi grazie, rimanete pure qua, sindaco. Noi invece andiamo avanti, complimenti per quello che fa, insomma, questo glielo devo riconoscere perché coinvolgere i giovani significa anche formarli, no? Sono il nostro futuro. Dunque, riprendiamo la nostra scaletta invece per parlare dei lavori pubblici e andiamo avanti con il secondo stralcio dei marciapiedi, quello che collegherà la frazione di Villa Grande e quando inizieranno questi lavori, intervento? Allora, stiamo affidando i lavori, entro marzo affidiamo i lavori, aprile dovrebbe essere l'inizio. Ho chiesto all'ufficio tecnico che il secondo stralcio del primo che vedete terminato, che è quello sottostante al cimitero con la nuova illuminazione, sia terminato entro la fine del mio mandato. Quindi mi auguro che si possa procedere. Adesso qui l'immagine è un po' più stretta, ma nel momento in cui dovesse essere possibile estenderla, ecco l'esatto, si vede un pochettino un intervento che complessivamente prevede il collegamento fra la frazione di Villa Grande e il capoluogo di Monbaroccio, un intervento complessivo di un milione di euro. Abbiamo fatto il primo stralcio, che è quello che vedete, di circa 305 mila euro, il secondo stralcio cofinanziato dalla regione Marche, assessorato all'infrastruttura e quindi un ringraziamento al Presidente Acquaroli e all'assessore Baldelli per i 330 mila euro destinati al secondo stralcio, cofinanziati con la regione per l'80%, mentre il terzo stralcio, che è quello finale, che collegherà il Beato Sante a Monbaroccio e al Ministero in una graduatoria che speriamo sia rifinanziata. Ci tengo a precisare questo, dottoressa Zonghetti. Questi marciapiedi, che hanno visto la luce in questa amministrazione, sono fondamentali per collegare una realtà come quella di Villa Grande tramite infrastruttura al borgo. Quando poi i ragazzi presenti potranno confermarlo, quando si sale da Villa Grande o quando si saliva da Villa Grande, trovare un buio pesto, prima di arrivare a Monbaroccio per circa un chilometro, era quasi avere un comune diverso rispetto a quello che ho l'onore di rappresentare, diviso e troncato dal buio che appunto divideva queste due realtà. Oggi con quei marciapiedi, in particolar modo anche con il secondo stralcio, sembrano anche molto più vicine il capoluogo della frazione di Villa Grande, che è quella più numerosa, e che nel passato ha avuto sempre un po' di distanze sotto tanti punti di vista, ma l'infrastruttura ci permette di riavvicinarci tanto, quindi diventa un doppio valore. Da Montegiano, anzi da Villa Grande andiamo a Montegiano per le case popolari, dove sono ripartiti i lavori? Assolutamente sì, ci scusiamo con i cittadini, in particolare con i confinanti, questa è la demolizione dell'edilizia popolare, della casa di edilizia popolare con i sei appartamenti di Montegiano, che sono stati sospesi, questa era come era prima della demolizione, causa una vasca di raccolta di gasolio che aveva bisogno del nulla osta per essere smaltita dell'ARPA, e quindi avendo avuto nulla osta la scorsa settimana dall'azienda preposta, questa settimana ripartiranno i lavori e debbono essere terminati, mi auguro per il Natale 2024, ma potrebbe essere nel massimo entro la Pasqua 2025, quindi nell'ottica di un anno circa. Invece il collettamento fognario riguarda la frazione del Cairo, anche lì il contratto di fiume? Ottimo, questo è un grande passo legato a quella che è l'interazione fra istituzioni, questo devo ringraziare molto il Comune di Fano e il Presidente Ciccolini del lato idrico, perché si è creata una grandissima sinergia per trovare una risoluzione, e anche il Comune di Pesaro per trovare una risoluzione a quello che è un problema che purtroppo subite a Fano, cioè questo collettamento che io richiedevo da anni e che finalmente comincia a vedere la luce, prima con un progetto finanziato dalla Regione per 50.000 euro, ma probabilmente anche col piano delle opere, prevede di mitigare, io ritengo, anche le problematiche che avete alla foce di Fano, in particolar modo alla foce del fiume Arzilla, laddove siete costretti, in particolare ad agosto, a chiudere la balneazione, a porre i divieti di balneazione. Perché? Perché quelle aziende che scaricano sul fiume Arzilla sono collettate solo con IMOF. Questo non è sufficiente per drenare quelle che sono le problematiche di inquinamento, che versano e sversano in questo caso sul fiume Arzilla. Il problema è a Monte. Bravissima, proprio così dottoressa. Nel momento in cui riusciamo a ridurre questa problematica partendo di strada c'erano tre. Zona industriale di Villa Grande, Cairo, frazione, Villa Betti, frazione di Monte Ciccardo o comunque a Pesaro, e la frazione Cairo che è l'area abitativa a Monte. Siamo riusciti, è un progetto complessivo da 4 milioni di euro, sembra che intanto 2 milioni possano essere destinati. Quindi collettare almeno una metà del tutto. Ed è un primo percorso che necessita e che diventa importante per collettare quell'area lì al depuratore di Santa Maria della Rzilla che è preposto a mitigare le problematiche che avete a valle. Il progetto è redatto, quello è pronto, le risorse ci sono? Sembrano che ci possano arrivare anche le risorse perché l'Ato Idrico sta lavorando con fondi che sono arrivati per appunto realizzare anche l'opera. Invece sull'illuminazione? Sull'illuminazione sono anche qui abbastanza soddisfatto perché abbiamo stanziato tramite fondi ministeriali circa 200. Questi sono i primi, a questi si aggiungono altri 150 mila euro, siamo nell'orbita di 250 e passa mila euro che vanno nella riqualificazione energetica di tutto il nostro comune. Prima con i ragazzi quando scendevo per Montegiano facevo vedere i nuovi LED che abbiamo montato questi giorni e che ci permettono di abbattere non solo i consumi e i costi a livello energetico per il 90% dei punti luce del nostro comune ma anche rendere quanto più possibile il nostro piccolo comune più pulito perché insomma ci permette sia di risparmiare ma per anche creare efficientamento energetico e ambientale. Cambiamo decisamente argomento, tra poco parleremo anche di Pesaro 2024 e delle varie iniziative ma di recente siete sbarcati a Madrid, siete stati a Pesaro per l'anteprima, poi a Roma, Venezia, Berlino e ora questo documentario, Siamo qui, siamo vivi, è stato proiettato, anzi due proiezioni come dicevo. Com'è andata? È andata molto bene, siamo stati ricevuti tramite l'ambasciata italiana all'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Era un percorso che tramite la comunità ebraica di Ancone e quella di Milano ci hanno portato a presentare questo documentario all'Istituto Culturale. Siamo stati accolti in una maniera meravigliosa, c'era un sacco di gente, un sacco di sensibilità nella prima serata e a fronte della prima serata per come abbiamo presentato il docufilm ci hanno invitato il giorno dopo all'Istituto Italiano a Madrid e sentire parlare italiano, sentire parlare la nostra lingua, la nostra cultura all'interno di una scuola, di una capitale così importante riempie d'orgoglio e d'emozione, in particolar modo quando devi raccontare quello che hanno fatto i tuoi concittadini, di quello che hanno fatto i tuoi antenati, di quello che hanno fatto i monbaroccesi nell'ottica di un percorso di pace perché quella volta quando caricavano chi fuggiva dalla guerra non guardavano di quale etnia fosse, di quale razza fosse, di quale sesso fosse ma pensavano solo a salvargli la vita e pensando che veniva fatto il tutto da persone che non avevano soldi, non avevano istruzioni, non avevano nient'altro che un carro con dei buoi, un po' di grano forse e un biroccio dove nascondere chi fuggiva insomma mi rendo orgoglioso della comunità che rappresento. Invece Pesaro 2024, parliamo di 50x50 capitali al quadrato quale sarà la vostra settimana? Che bella questa foto, qui siamo belli belli belli, sì, noi siamo il 15-21 luglio, quindi la terza settimana di luglio, è un percorso che ci vede coinvolti in piena estate, vedremo se ci sarò io oppure no, perché tanto il 9 giugno sarà il voto, quindi 8-9 giugno, sabato pomeriggio ragazzi, il 9 che è domenica, quindi siete già coinvolti, vedete voi come fare, però è una realtà che ci vede coinvolti nell'ottica di Palazzo del Monte come anticipavamo prima, perché sarà un percorso nell'ottica appunto di quello che abbiamo riqualificato, riaperto come palazzo, di una valorizzazione dell'astronomia, della scienza e mi aggiungo, mi permetto di dire, come ha anticipato la BIT di Milano, anche dell'orologeria. Siamo capofila insieme a Urbino, quindi Guido Baldo e Idella Rovere per lo studio del tempo e dell'orologeria, percorso che poi accomuna la Regione Marche per i suoi campanili, quindi lo studio di come si muovevano i campanili nasce da Monbarocce e da Idella Rovere a fronte della corrispondenza fra le due famiglie, in particolare lo scienziato Guido Baldo e Idella Rovere appunto, che quella volta studiarono un primo orologio d'acqua con delle lancette che si misuravano. Vi spiegheremo come quest'estate, quando faremo il primo convegno dedicato all'orologeria e che mi auguro possa essere un punto di forza per la Regione Marche tutta, perché dobbiamo capire che nella Regione Marche è stato inventato il tempo, sia nel senso dell'orologio, ma anche del valore, quindi questo è qualcosa che sto sposando con la Regione, in particolare con la Dottoressa Tisi che ringrazio e che, insomma, ci può portare avanti dentro un percorso. Questo percorso legato a Palazzo del Monte che guarda naturalmente il Beato Sante, l'altro punto nevralgico per Pesaro 2024, quindi Monbaroccio capitale 2024, e che vede appunto negli itinerari di fede, nei percorsi del santuario, della natura che lo circonda, la nostra valorizzazione culturale, i nostri percorsi di fede e tutta la valorizzazione di un patrimonio culturale e artistico che è altissimo per questa che è la mia comunità. Ultima domanda, Sindaco. Gliela fa un cittadino. A proposito di prossime amministrazioni, avremo l'onore di averla ancora come nostro primo cittadino. Ricordo, mi sono segnata la frase che lei disse appunto a novembre, rimetto il mio mandato nelle mani del gruppo. Il gruppo ha deciso? È ancora nelle mani del gruppo. Non possiamo dare nessuna notizia? Ho dato la mia disponibilità al gruppo e quindi vediamo se riusciamo a costruire una bella squadra e poi da lì la squadra sceglierà il sindaco piuttosto che il resto. Rimaniamo in attesa di notizie. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie anche a voi ragazzi per aver deciso di passare appunto qua questa giornata importante soprattutto per te, Eran, Giada, il tuo compleanno domani, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie come sempre ai nostri telespettatori per averci seguito, un ringraziamento a Riccardo Sora e Cristiana Guerra in regia e più tardi noi ci rivediamo per il telegiornale delle 20 e 30. A tra poco.